Ragazzi, si fanno degli errori, penso sia uno di quelli che abbiamo fatto è questo, è stata sottovalutata e non penso che a nessun prezzo sia giustificabile un sacrificio del genere. A questo punto, cioè, vi parlate? Io penso che è stato un errore sottovalutarlo, ripeto. Spero che siamo in tempo di poter arrivare a queste posizioni e non siano imprescindibili e inderogabili. Quindi è stato un grosso errore, del quale anche io, per non aver seguito certe cose, è la mia responsabilità. Quindi la soluzione è eliminare questa partita dal calendario, cioè basta si torna agli orari più consoli. È bello dire queste cose, bisogna vedere se anche i contratti ci permettono adesso, perciò devo vedere queste cose. Vorrei, fosse possibile, dobbiamo rispettare anche altre aziende che magari hanno preso gli impegni, e se non fosse possibile abbiamo fatto un danno che si poteva evitare.